Arrete, sono cavalli di prima, bisogna andare via prima, Arrete Jorma Conteo, adesso arriva anche il Tilli, arriva Passant Camp, Arrete anche Filippe Rocke, attenzione sarà una partenza straordinaria, Filippe Rocke, mezzo cavallo davanti a tutti, Filippe Rocke, mezzo cavallo davanti a tutti, Filippe Rocke, Erle Tilli, Erle Tilli, ci mette sotto Opal Viking, al comando Erle Tilli, al comando Monte Granaro, ma arriva Filippe Rocke, arriva Filippe Rocke, sposta, sposta, grande, grande mossa di Norma Conteo, adesso bisogna vedere cosa farà Davide Nuti però, Davide Nuti molla un cavallo, attenzione un contatto tra, attenzione un contatto, la rottura di Glamour F, un contatto tra Opal Viking e Passant Camp, grazie, sembrava grande Norma Conteo, ma poi doveva andare via dritto, invece è rimasto lì di fuori, al comando, adesso c'è Filippe Rocke con Opal Viking che gli gira di fuori, secondo la corda è Erle Tilli, i cavalli arrivano al paletto dei 600 in 42,4, un pario incredibile, ha spostato intanto il numero uno Passant Camp che è andato in schiena ad Opal Viking in terza pariglia, Algers All. Adesso la possibilità di Norma Conteo è quella di accompagnare fino in retto d'arrivo Filippe Rocke che però sta risparmiando moltissimo, l'avevamo detto, Filippe Rocke può andare in testa da qualsiasi numero e può scompaginare questo palio dei comuni, i migliori sono tutti lì. Al comando è Filippe Rocke nei confronti del numero 2, Filippe Rocke al comando, di dietro c'è Opal Viking che può riposare e poi il... E' Norma Conteo che sta marcando Eric Edelson che però ha quella posizione, dice io me la prendo. Eh, passi nel schiena. O vai giù o vai di fuori. Esatto, doveva andare giù. Norma Conteo comunque adesso va ad accelerare sul numero 4 Filippe Rocke, di dentro c'è il numero uno Passant Camp, la retta d'arrivo è vicina al comando Filippe Rocke, Opal Viking, Opal Viking va a spingere su Filippe Rocke di dentro, Passant Camp, Passant Camp, Opal Viking, Filippe Rocke, Opal Viking, Opal Viking, Opal Viking, che è sul palo, sul palo a pariglia Filippe Rocke, è incredibile questo Pane dei Comuni, Jorma Conteo non ha mai guidato così cattivo, li ha marcati tutti fin sul palo, sull'animatura è nata la mezza ruota, ha guidato come si guida in Italia Jorma Conteo, ha anche danneggiato un po' Passant Camp dopo 100 metri, vediamo, vediamo, perché Filippe Rocke davvero vende cara la pelle, davvero vende cara, fin sul palo, vedete Filippe Rocke, arriva, arriva il cuore di Opal Viking, i due sono molto vicini, molto vicini, ma dopo vent'anni, dopo vent'anni il palio lo vince molto e noccio! Allora, avete capito, avete capito che Matteo Vicichino è felice, cerchiamo di ritornare nei ranghi, cerchiamo di ritornare nei ranghi, aspettiamo l'ordine d'arrivo ufficiale perché il giudice richiede la fotografia e richiede di vedere il filmato, comunque aspettiamo l'ordine d'arrivo ufficiale, grandissimo, grandissimo Filippe Rocke che ha venduto cara la pelle, grandissimo, intanto prego l'assessore Petrini e l'onorevole Luca Paolini di andare in premiazione e ovviamente di aspettare cortesemente l'ordine d'arrivo ufficiale perché ovviamente i giudici vorranno ragionarci sopra, quindi aspettiamo l'ordine d'arrivo ufficiale, c'è anche la fotografia da decifrare e quindi aspettiamo, comunque ha venduto cara la pelle veramente Filippe Rocke che ha corso per il comune di Sant'Elpidio a mare e ha onorato questa corsa intanto Jorma Contio con Opal e Viking